Il Vicenza non riesce a ritrovarsi, pesa sulla squadra tutta la vicenda del calcio scommesse ed il bel gioco della scorsa stagione non si vede proprio. Col Taranto il Vicenza aveva perso, col Cesena ha pareggiato. Una differenza c'è, è stata nella maggiore saggezza tattica, difensiva, con cui i padroni di casa hanno affrontato l'incontro. Dal canto loro i romagnoli hanno disputato una partita accorta, badando a controllare il gioco, a difendersi con ordine, cosa che gli è riuscita senza troppa difficoltà, e a tentare la replica in contropiede. Da questa combinazione di elementi non poteva che uscire uno 0-0, tutto sommato con poche emozioni, almeno nella prima parte del gioco. La principale la fornisce proprio il Cesena, che tenta di andare in gol con una conclusione di Barozzi che, come vediamo, finisce sul palo. Nella ripresa poi la pressione vicentina è piuttosto inconcludente, soddisfazione dunque per Bolchi per il punto conquistato. Del Vicenza, l'allenatore del Cesena, visto in gran forma solo fortunato, non a caso autore dell'unica pericolosa conclusione.